Dopo 30 anni il Parco del Mincio cambia logo, un momento importante reso possibile attraverso un concorso di idee che il Parco ha indetto per cercare un nuovo simbolo da adottare anche in vista del trentesimo anniversario dell'area protetta previsto per il prossimo anno. Dopo 30 anni il Parco ha deciso di cambiare logo, il motivo è al di là di una giusta valorizzazione del territorio perché l'elemento caratteristico che viene aggiunto all'originario logo è l'elemento faulistico che prima non c'era. Il logo studiato 30 anni fa da un ragazzo era molto importante, significativo e ha caratterizzato il Parco. Crediamo che dopo 30 anni si possano aggiungere quegli elementi che nel tempo hanno caratterizzato anche il Parco del Mincio. Oggi la fauna rappresenta un elemento importante. Non solo un parco fluviale quindi, ma un luogo dove gli animali vivono, sono presenti e danno un valore aggiunto avendo una particolare importanza all'interno del territorio. A vincere è stato Stefano Lastrucci, 26 anni, fiorentino di nascita, mostigliese di adozione, che lavora come tecnico informatico al grigiatì di Ostiglia. Ma come è nata l'idea di questo simbolo? L'idea è nata nel voler in qualche modo creare un logo sia giovanile, dinamico, ma che rispecassi comunque sia anche i livelli di riconducibilità del precedente con il rispetto appunto della scala cromatica, dei colori. Quindi creare comunque sia un logo di impatto, tanto è vero che è racchiuso in una scala quadrata e può essere appunto riprodotto su vari supporti e in vari formati. La presentazione del nuovo logo oggi, 5 giugno, proprio durante la giornata mondiale dell'ambiente. Ma cosa significa Parco del Mincio per i giovani? Già, perché un logo deve racchiudere e riassumere tutte le caratteristiche. Il parco è comunque sia un luogo dove la natura predomina, la natura e gli animali che lo popolano. Ed è comunque sia un luogo da rispettare e da avere rispetto sia per la natura sia per i suoi abitanti. Ed è un luogo da preservare e ricordare. Così come nel 1987, quando debuttò il vecchio logo del Parco del Mincio per mano di Marco Rodolfi, allora studente del liceo artistico, anche oggi, nel 2013, è stata molto ampia la partecipazione, 40 gli elaborati provenienti da tutta Italia. Il significativo è importante la partecipazione a questo bando di una scuola, l'Istituto Bazzoli Poli di Desenziano, con la sua classe terza C, che ha partecipato con più di 20 elaborati. Quindi un significato importante è perché una scuola ha creduto nel partecipare. Un significato importante è perché i ragazzi si sono cimentati per portare e voler indicare come loro intenderebbero rappresentare il parco. E quindi un elemento che per noi ha fatto anche riflettere di quanto fosse importante tenere in considerazione, perché all'interno anche dei loro loghi l'elemento animale ha rappresentato l'elemento fondamentale. E da domani il logo di Stefano Lastrucci rappresenterà ovunque il Parco del Mincio per i prossimi 30 anni. Io sono molto orgoglioso. Ho intravisto un attimo, appena intravisto, anche alcuni altri lavori che erano appunto in competizione. Ed effettivamente erano anche quelli dei bei lavori. Sono veramente molto fiero di essere stato il primo. Non lo so, sono felice. L'unico termine da usare.